Di banco, nuovo a Formula Champions League, a tanti piace, a tanti altri no, partite spesso e volentieri molto sbilanciate, Borussia Dortmund 7-1, Barcelona 5-0, Manchester 4-0, Inter 4-0, giro di banco, parto da Marcello che non è in studio con noi, quindi gli do il favore del primo commento. Marcello, preferivi la formula precedente o questa? Chiaramente stiamo agli albori, è chiaro che a fine anno avremo le idee più chiare, però adesso ha sensazione. Ma è una questione di abitudini, eri abituato con quella formula lì e quindi ti piaceva quella formula lì, però questa qui a me non mi dispiace perché ti fa incontrare più squadre, magari a differenza di prima che incontravi quelle tre lì, adesso incontri una squadra differente ogni volta, ti confronti sempre con squadre, secondo me, di buon livello, di alto livello, a me non mi dispiace, bisogna anche capirla questa Champions perché se prima potevi fare dei calcoli, qui ne puoi fare un po' meno, nel senso che qua non ti puoi permettere di dire beh, tanto qui prendo un punto, lì ne prendo tre, in un girone tu riesci a calcolare le partite che devi vincere per forza, quelle che puoi pareggiare e ti fai il tuo calcolo. Qui non lo puoi fare e infatti secondo me il Real Madrid in questo, come anche altre squadre, non stanno facendo bene, non hanno ancora capito bene com'è questa Champions League e quindi si trovano un po' disorientate, pensano magari di andare a fare delle vittorie sicure su determinati campi quando invece non è così, perché tu affronti otto squadre diverse. Però chiudiamo il capitolo sulla Champions, l'Europa League di questi giorni. Marco, allora, Marcello ha detto di essere d'accordo o perlomeno propenso a vedere se questa nuova formula può essere accogliente, per ora ha delle buone sensazioni. Tu sei di alto partito? Io non ho delle buone sensazioni perché sono dell'esatta opinione opposta di Marcello. Mi piace, mi piace. Questo perché? Perché c'è un calcolo matematico, quasi matematico, poi bisogna vedere se è vero, che con tre partite vinte passi alla fase successiva. Quindi è proprio l'esatto opposto di ciò che poteva accadere prima nel girone dove le partite avevano secondo me un patos diverso. Cioè qui è quasi un campionato, hai il turno di campionato... Cioè oggi il Tomina ha zero punti dopo due partite ma tu non sei preoccupato. Io non sono preoccupato perché è in piena qualificazione. Perché guardiamo il calendario del Milan di Champions League. Hai il play-off con dieci punti. Sì, ma passi, comunque il play-off in ogni caso è il garantito. I sedicesimi. I sedicesimi garantiti. Nei grandi club nessuno vogliono tutti spazzarsi. Perché Marco dice, io milanista vinco col Bruges, con lo Slovan-Bratislava, con lo Stella Rossa e pareggio col Girona e pareggio con la Dimo Zagabria. Addirittura rischio di andare in play-off. E quindi è esattamente l'opposto di quello che prima succedeva. Se tu steccavi due partite nel girone, non eri fuori. Fa niente. Tante squadre hanno steccato le prime due e si sono qualificate contro il Bitto. Tante squadre, ma raramente dai Michele adesso. Ma non puoi dire che le Big ambiscono a fare 9-10 punti. Le Big ambiscono a essere nelle prime 4, nemmeno nelle prime 8. Perché poi si creerà il tabellone del Nistro. Ma che hai detto le Big? Tu hai detto le Big. Io ho detto che il Bitto crea delle dinamiche che possono creare meno patos. Poi sono gusti. E oltretutto c'è un abbassamento del livello. Perché partite che finiscono 7-0, 9-1. Classifica. Qua Marco ti vengo incontro con la classifica. Perché ci sono oggettivamente delle squadre che con la Champions League, ora non dico di tornare agli anni 90 con la prima che va in Coppa Campioni. Però se pensano Young Boys, che però in Champions sono giocati in questi anni, per carità. L'unica cosa non bella sicura è per i conduttori TV che devono leggere la classifica. Cioè quella lì, no? La diventa dura. Allora intanto le 4 squadre in più. Però il livello non si è abbassato in certe partite. Per me no Paolo, sai perché? Sono 4 squadre in più. Allora le 4 squadre in più sono due dalle federazioni migliori. Cioè l'anno scorso ha vinto l'Italia, la Germania, la classifica. Ma di solito la vincerà l'Inghilterra e un'altra a Big. Quindi ti portano la quinta dei campionati migliori. Quindi due in più sono di fascia altissima. L'altra è stata il contentino alla Francia, che è alla quarta, è comunque di fascia alta. E l'altra è un campione in più, perché anche dalla classifica dei campioni dei Paesi Minori dove devono superare però 3-4 preliminari. Allora io ti dico il mio voto sì perché... Allora la vera Champions, e qua sono d'accordo con Marco, è dagli ottavi in poi, quella è l'adrenalina, andate e ritorno. Era prima così e sarà adesso così, non è cambiato niente. Sicuramente. La prima fase. Prima avevi le Big che chiudevano il discorso terza-quarta giornata e c'era la quarta che era la squadra materasso del girone. Tu avevi tre avversari. Adesso c'è più varietà. Intanto hai una classifica che è più stimolante. Tu dove sei in classifica dopo tre giornate, dopo quattro sono ottavo, sono quinto, sono terzo? Poi hai otto avversari diverse. Ti ha appena detto che lui non sa manco dov'è il Milan in classifica perché sa che con il calendario... No, ma oggi non lo sa. Che chiaro, il Milan ha zero punti. Ma perché non siamo abituati, ma tu oggi non lo sai, dopo sarai interessato alla quarta. Assolutamente, certo. Però non sa se è quartuto. Zero punti, fatti Marcello. Zero punti. Poi otto avversari diverse, per esempio, è un'altra cosa più stimolante. Cioè tu hai partite con squadre diverse, poi ovviamente si è fatto per i soldi perché... Dobbiamo dire la causa vera, sono i soldi. No, la causa vera è la Superlega. Però prima si diceva, ma avete fatto la testa così, che l'Inter è andata in finale perché ha preso le portoghesi e il Milan, anziché Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain. Allora, adesso, c'è col tabellone tennistico, tu ti guadagni la posizione nel tabellone per come hai fatto meritocraticamente la prima parte con tutti, otto partite, con squadre più o meno bilanciate. Sì, ognuno diverse, le squadre. Ognuno diverse, però si cerca di mettere dalla fascia, due di prima fascia, due di seconda, due di terza e due di quarta. Poi lo Stalera Rossa scoprò essere tipo in terza fascia, se non sbaglio. Sì, il Monaco in quarta, la Stonville in quarta, però anche lì le fasce sono fatte con la meritocrazia degli ultimi cinque anni del ranking. Poi siamo d'accordo che per me la controindicazione è che si continua a giocare troppo e ancora di più in questo caso. Però se mi dicessero dieci partite anziché otto, ma in campionato quattro partite in meno con sedici squadre, secondo me sarebbe ancora meglio di Ognuno. Simone, per quanto riguarda il tifoso, penso che il tifoso veda questa nuova Champions da un punto di vista più rilassato. Perché, parlo per me, quest'anno sono molto più rilassato perché so che la mia squadra, l'Inter nazionale, se la può giocare tranquillamente e in modo più agevole. Proprio perché ci sono squadre, diciamo, ci sono squadre molto molto più abbordabili. Invece nel Champions League dell'anno scorso e degli altri anni c'era molta più ansia perché tu magari dovevi andartela a giocare con tre che si chiamavano Barcellona, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Nel girone no, avevi la squadra di quarta fascia, la squadra di terza. Adesso invece se vuoi arrivare nelle prime otto non puoi permetterti di sbagliare. Il Milan se ne sbaglia un'altra, si è giocato la possibilità di arrivare ottavo. Guarda che dipende dall'obiettivo, se volete arrivare ai ventiquattresimi giusto per passare il turno. Paolo, si, Regigia. Mi piace. Ti piace. È più democratica, fra virgolette, è alla lunga più interessante, secondo me. E forse anche meno casuale perché si può dilatare su più partite ed è meno stringente nelle cose, mi piace. È più tutti contro tutti. Sì, sì. Da quel punto di vista c'è meno caso. Infatti allora, quando su un'economia di campionato, parlando del campionato nazionale, questa somiglia di più questa formula. Sì, sono otto giornate di campionato. Hai comunque un pathos diverso. Cioè se tu steccavi prima nel piccolo girone, steccavi la partita con la squadra Materasso, con gli schiavi, di complicarti la vita di uscire. È meno ansiogena. Ecco, è meno ansiogena. Quindi il mio discorso è crea meno pathos. Questo penso che sia insindacabile perché hai più possibilità di rifarti, perché contro vittorio, probabilmente o con un trappettore o due pareggi arrivi direttore al playoff. E quindi sia il tifoso, sia il giocatore stesso ha o meno coinvolgimento nel vivere il risultato finale, la prestazione. Dopo, dopo no. Poi tutte le cose che hai detto Paolo, giusto, democratica, sicuramente meno affidata al caso, meno affidata alla fortuna. Quindi è giusto. Non a caso, ricordiamoci come l'Inter ha vinto nel 2010 la Champions League. Come l'ha vinto? Ha battuto tutti i campioni nazionali? No, diciamo che con tanti episodi. Perché comunque ricordiamoci che con la Dinamo Kieb fino all'ottantotesimo siete fuori e poi trovate due gol. Scusa, i pronostici, qua chi ha zecchi e pronostici è Paolo Marcello, perché ha detto, secondo me, Juve e Milan perdenti e Inter vincente. Sei tu che ha zecchi i pronostici, su Barbato. Ah sì, rispetto al pronostico del pendolino. Sei tu che è la sfera, mi sa. Sì, sì, avevo questa sensazione. Vediamo le formazioni di Inter-Torino. Dai, Michele, l'Inter ripropone, dopo l'ottimo ingresso in campo da Pino di Arnautovic, di Taremi, però ripropone la coppia d'attacco titolare. Sette cambi di nuovo, come erano stati sette con la Stella Rossa, perché torna allora Bissek per Pavara, Cervi per De Vrij. I due esterni cambiano, le due punte, come dicevi tu adesso, cambiano e Frattesi, che era stato programmato di non far rifare le tre partite consecutive titolare, quindi ha giocato Zerischi in mezzo alla settimana e adesso gioca Frattesi a fine settimana, cioè a fine settimana sabato. Mkhitaryan invece proprio manco... Mkhitaryan non sa, però c'è da dire che con l'ammunizione è uscito prima, quindi sia Mkhitaryan, ma poi anche Cianoclu gli ha risparmiato gli ultimi minuti, sapendo che voleva... ma anche perché allora Mkhitaryan nelle ultime due partite, non ha iniziato male la stagione, ma nelle ultime due, soprattutto l'ultima, ha fatto una bellissima partita. Quanto fa testo Inter-Stella Rossa? Inter-Stella Rossa era, diciamo, il ritiro alla cassa del pareggio di Manchester, perché col Manchester hai fatto un punto, anche in più forse sulla tabella di marcia, anche meritandolo, però se dopo non vinci con la Stella Rossa, poi abbiamo visto che in questa classifica contano molti gol, quindi sei riuscito a fare i gol, però diciamo che fino al 2-0 non è che era proprio una passeggiata di salute, dopo il 2-0 non c'è stata proprio più partita. La notizia positiva è che tu riesci a vincere, è vero, con una squadra di terza e quarta fascia di Champions, ma hai cambiato tanto. Quindi nella settimana dove l'Inter fa la grande partita a Manchester, perde cinque punti in campionato. Qui invece dove c'era la Stella Rossa in mezzo, ha potuto schierare formazioni magari anche più forti prima e dopo. A Udine c'è stata qualche carenza difensiva, ma abbiamo rivisto la mentalità giusta. La domanda è, ci siamo chiesti, il Milan di Fonseca ha ingranato? La Juve di Tiago Motta è sbocciata? Adesso ci chiediamo, l'Inter è un po' debilitata del derby? Sì, e del Monza. E del Monza. Con Udinese e Stella Rossa, secondo te, è tornata a essere l'Inter oppure domani è un test provante? È sempre un test. No, quello sì, ok. Allora, ci sono due aspetti. Io per esempio non ho la stessa idea tua su Udinese e Inter, ma Udinese e Inter è una partita che l'Inter ha vinto quasi per inerzia, ma contro un Udinese in grande difficoltà. Cioè io vedo un Inter molto diversa dall'Inter schiacciassassi l'anno scorso. Allora io ho visto... Mi dà proprio un'altra sensazione. Allora, per esempio, Inzaghi, sull'aspetto negativo, perché l'aspetto positivo dopo le due partite negative con Monza e Milan è che l'Inter ha approcciato bene i tempi, è entrata in campo con una certa testa, però si sono viste l'aspetto negativo, queste lacune difensive, che Inzaghi ha anche spiegato raccontando i gol come siano stati errori di squadra. Ecco, però c'è anche il dato che lui porta degli expected goals, che l'anno scorso, nelle prime giornate, dove l'Inter aveva preso solo tre gol, adesso ne ha presi già sette, erano stati uguali. Quindi lui dice, è vero che abbiamo sbagliato e fatto errori di squadra, però non è che l'anno scorso abbiamo concesso nettamente meno, concedevamo poco prima e poco adesso. Quel poco che però concediamo è stata fatta male la fase difensiva, quindi l'attenzione deve essere alta. Quindi perché è importante Torino? Perché la testa deve essere sempre... Di quello parlo, eh. No, no, ma la testa... Una squadra che dopo che ha vinto, inconsciamente abbassa un pochino. Sì, questo è il pericolo di quest'anno e si è già avverato a metà settembre. Esatto. Adesso l'Inter deve far vedere che questo schiaffo che ha preso, perché col Monza era stato il campanello all'arbre, col Mila è stato lo schiaffo forte, deve aver già capito a inizio stagione che non deve cadere più in questo tipo di errore. Allora, io ho già ribadito il discorso che secondo me l'Inter, soprattutto in campionato, avrà dei cali di tensione. L'avevo detto prima del campionato, si è dimostrato perché comunque la motivazione esterna conta sempre. Quindi l'abbassamento di tensione, perché Paolo in passato, le scorse puntate, diceva anche con questione di età, secondo me la squadra non diventa vecchia, abbiamo una visione diversa da questo punto di vista. In tre mesi lo dimostrano le partite di Champions. Alcuni giocatori però da una stagione all'altra andai con i cali. Ci può essere. Io avevo fatto un esempio di quando Battistuta arrivò all'Inter. Sì, sì, assolutamente ci può essere. Si poteva vedere ancora gli allenamenti e aveva perso parte della forza che l'aveva contraddistinto. L'aveva fatto il rifotto dalla caviglia. Come vieri, come vieri. No, ma è vero che ci sono quelli che cadono da un anno all'altro, però oggi al cerchio di migliori stanno giocando. Non arriva per tutti questo decadimento, ma per molti arriva all'improvviso. Ci sono quelli che hanno giocato a 40 anni come Zanetti, Costa Curta e Maldini. Però Paolo ad oggi. Però Paolo, secondo me è un discorso, lo dimostrano il passato, Barcellona di Guardiola che è stata probabilmente la più grande squadra degli ultimi 30 anni, che vinceva un anno la Champions, se l'altro no, poi per episodio meno, ma di fatto non la vinceva. Ma che giocatore aveva? Non si può fare esempio. Secondo me è molto più motivazionale di attenzione la cosa che comunque rispetto all'età. Può influire anche quello, non lo escludo. Il fatto, Marco, di avere oggi Napoli che va a 5, ti può dare mentalmente quella cosa che tu devi inseguire e quindi non puoi pensare di dire vabbè, tanto siamo forti. Ma dipende quanto tu ci metti dentro la settimana e quanto ci metti dentro il lavoro. Il problema dell'Inter può avere anche creato l'anno scorso aver subito delle occasioni da gol. Il problema è che quest'anno le subisce lampanti, chiare e facili da realizzare. Quindi tu l'occasione da gol, cioè che dopo lo statistico, il match analyst ti mette di fronte come dato. Di fatto c'è occasione, occasione. Cioè quest'anno perché prendi gol? Perché sono lassi nella marcatura. Anche il colpo di testa che subisce a Udine, che io sono più d'accordo. E' lontano, bis. No, ma c'è una copertura, al trequartista che esce. Che folle, una posizione di mezzo, bis, che è lontano, perde il contatto, ma è anche chi era bastone. Però Marco sei d'accordo che lì, nei primi 28 minuti, quattro occasioni... Il 3-2 di Lucca quando lo prende l'Inter l'anno scorso. Eh no, ma ti dico... Non lo prende mai. Ma ti dico... No, ma allora l'Inter l'anno scorso, alla sesta e l'ottava, fa 1-2 col Sassuolo e 2-2 col Bologna. Col Bologna sai che fece? Un primo tempo stato sperico, vinceva 2-1. Quando l'Inter entra in questi tempi dove fa molto bene, là c'è il pericolo di calare l'attenzione. Con l'Udinese, i due momenti in cui prende gol, il primo gol lo prende dopo una mezz'ora in cui ha creato quattro palle gol limpide e inizia a pensare che la partita la stai vincendo in carrozzo. 1-0, palle gol, e invece prendi il gol con una distrazione bruttissima. Il 3-1, il 3-2 di Lucca, lo prende dopo che Lautaro, 3-0, vuole fare il gol pallonetto anziché passare la palla e la squadra si fa trovare scoperta e prende il gol in contropiede sul 3-1. Hai detto niente. No, per dire che ogni volta che iniziano a pensare che questo è il pericolo dell'Inter di quest'anno. Posso dire che l'Inter di quest'anno o l'Inter dello scorso anno non avrebbe mai approcciato a Monza come approcciato al derby. Ragazzi, Michi Italia... No, il derby sono d'accordo. Questo dimostra che questi calici possono essere per X motivi secondo me soprattutto in campionato dove viene posta una attenzione se non è minore e anche per un effettivo inserimento di giocatori, non molti perché generalmente è la squadra che ha cambiato meno però c'è una sorta di rinnovamento c'è qualche cambiamento che può destabilizzare un equilibrio oleato però oleato meno dello scorso anno per un discorso motivazionale. Tutto qua. Vediamo anche il Torino. Per me è... L'avversario è scomodo domani, credo. Poi il Torino mi sembra una squadra che possa dare più fastidio fuori casa. Con la Lazio male, però. Con la Lazio male. Hai ragione. Con la Lazio male, sì. L'ha detto anche Vanoli oggi. L'avremmo vista insieme domenica. Tu dici che Torino-Empoli, Coppa Italia, Torino-Lazio può essere entrato il Torino magari in un momento della stagione un po' buio? Bah, non so. Non penso sia stato il contraccolpo della Coppa Italia ma è proprio il fatto che il Torino sta a sbagliare. L'ha descritta bene Vanoli. Troppe errori. Forse si erano un po' troppo adagiati in questo ruolo di capoclassifica, troppa festa intorno. Magari adesso sono ritornati sulla terra e a San Siro faranno una partita un pochettino più seria, ecco. Più concentrata. Però Marcello, se intendo oggi... Non è un cliente facile. Non è un cliente facile anche perché è vero ci sono tanti cali di tensione nell'Inter ma sono frequenti. Sono troppo frequenti. La partita peggiore secondo me di tutto e oltre al derby è stata Monza. Io a Monza non mi aspettavo di vedere quell'Inter lì. Andava a passeggiare. Meno male. Stiamo Paolo. Poi Simone. Ma sull'Inter, dici sulla partita. Sull'Inter in generale. No, secondo me la partita non sarà semplice perché comunque a parte quei due inciampi il Torino è un buon allenatore, una buona organizzazione di gioco e secondo me rispetto al passato è anche più pericolosa dal punto di vista offensivo. Sull'Inter, vabbè, ognuno potrebbe parlarne per tre giorni. Uno dice che per aspetto psicologico l'altro per... Però questa afflessione la vediamo tutti, dici tu? Sì, sì, sì. Secondo me sì. In generale, quello che vuoi. Sì, secondo me sarà meno dominante anzi, è meno dominante e lo sarà per tutta la stagione rispetto al passato. Poi avrà dei picchi alti però secondo me quella continuità col focus io lo vedo meno quest'anno. Picchi più in Champions che in campionato. Cioè il focus magari inconscio magari no, però... Quello è il punto perché vuole mettere sulla Champions anche quello che metteva l'anno scorso in campionato. Certo. E da una parte non so se ce la fai ad avere quella stessa attenzione sempre. Però il campionato te lo puoi quasi prefiggere come obiettivo. La Champions è un terno all'otto. Però, beh, è un terno all'otto... E più un terno all'otto. Beh, con questa formula un po' meno magari. E poi, e poi comunque per un club, per le finanze di un club, non dimentichiamo che c'è una nuova proprietà, andare avanti in Europa è importantissimo. Ma come no, certo. Cioè, ma non per il prestigio, per le finanze. Verrà. Poi noi ci eccitiamo per lo scudetto. Però l'hanno vinto, hanno la seconda stella, due anni fa hanno fatto finale. Cioè, secondo me... Però vale per tutti questo discorso dell'Europa che ti dà molti più introiti. Certo, però stiamo parlando, non stiamo parlando con tutto il rispetto del Bologna, stiamo parlando dell'Inter. No, no, no. Io parlo delle big italiane. Che ha fatto finale e che ci sta che dopo aver preso la seconda stella che era l'obiettivo dichiarato quest'anno tra un po' di inserimenti e un po' di inconscio l'obiettivo sulla Champions secondo me è comprensibile. Simu. Tanto risultiamo in campionato più deboli dell'anno scorso tanto risultiamo più forti dell'anno scorso in Champions. Quest'anno secondo me in Champions diremo la nostra e alzeremo la voce. Per quanto riguarda la partita col Torino la considero una piccola prova del nove perché il Torino comunque è una squadra di un certo tipo e l'Inter domani dovrà far vedere di aver fatto un salto di qualità uno scalino anche in campionato. Comunque quello che abbiamo detto prima di Motta vale in un'altra realtà per Vanuoli l'aveva accennato adesso Paolo perché oggi in conferenza ha proprio detto abbiamo sbagliato delle cose lo ricordava Marcello con la Lazio non mi è piaciuta la fase difensiva eccetera ma io adesso con l'Inter voglio vedere una squadra che ha il coraggio di fare quello che noi facciamo in allenamento per andare a segnare Collino e che siccome va a giocare a San Siro con l'Inter allora siamo lì in guardini ma l'aveva fatto col Milan però questo per l'Inter può essere una cosa che se c'è la testa giusta non è proprio una negatività perché l'Inter col Monza non a caso quando vede la squadra che si chiude dietro inizia a fare quei fraseggi se non aumenti l'intensità e il ritmo non servono a niente non immagina nemmeno un Torino così alla Garibaldina a buttarsi no però non il Torino di Juric un Torino diverso che poi gioca anche non a caso con le due punte parte già con due punte ma lì si vede che ha lavorato con Conte è un figlio di Conte è un figlio di Conte cioè è la stessa anche a Conte la parola figlio di Conte musichetta siamo ai saluti ragazzi domani torniamo alle 18 Atalanta Genoa e poi seguire Inter Torino quindi serata imperdibile nel frattempo i saluti e ringrazio Marcello Chirico ciao Marcello ciao Paolo buonanotte a tutti ciao caro buonanotte a presto Simone Barbato ciao Simo Michele Borrelli ciao Michele buonanotte a tutti a domani grazie a Paolo Bargigia buonanotte a Marco Varaldi buonanotte Paolo buonanotte a tutti grazie a tutti i ragazzi che hanno lavorato in studio regia e redazione a voi che ci avete seguito fino a quest'ora domani alle 18 Nettwick Calcio show non mancate buonanotte grazie a tutti